Ragazzi, buongiorno! Oggi vi portiamo con noi in un posto per noi speciale, perché secondo noi è bellissimo. E questo è il regalo alla mia ragazza per il suo compleanno. Ora sono arrivato a prenderla, l'aiuto a caricare le valigie e poi partiamo. Siamo in viaggio verso... L'Alpe di Siosi. Uno degli altopiani più belli d'Europa. Siamo in viaggio verso l'alpe di Siosi e prima di andare in Nutella abbiamo camminato dato che il check out era appunto verso le due e mezza. Debbie partita la nostra escursione. Andiamo! Prima escursione. Oggi leggera perché è già tardi. Dopo dobbiamo andare anche in Nutella. Che montagne! Ma cosa mangia? La terra? No, metti a fuoco. Che belli che sono! Sono minuscoli! Quanti alpaca ci sono quest'anno! Venga! Oh! Non sei viva! Ma lasciate dormire poverino? Eh, l'ho lasciato! L'ho solo visto se... Spettacolo! Come sta andando la camminata, Dermi! È tosta, è tutta bella in salita! Abbiamo scelto la maga più comoda che potessimo scegliere, proprio il mezzo è nulla. Speriamo che stiamo andando dalla parte giusta. Un po' di preoccupazione. Stiamo pionendo! Dov'è tuo amore? No, guarda che se è stato, non muoio. Eh, ci siamo vestiti a piombo. Speriamo di aver scelto la maga giusta, cioè il percorso giusto a questo punto. Siamo arrivati. Non è un miraggio. Ok, ci siamo seduti? Abbiamo preso un... Com'è che si chiama? Oh, stai facendo un video? Sì. Com'è che si chiama questo? Un pezzi, un bello, un bello, un bello, un bello. Vabbè, è metà coccola e metà limone. Buonissima. Limonata, non limone. Esatto, limonata. Se no, è acidissima. Buonissima. Poi, ovviamente, cos'è che non facevamo prendere? I canedani in brodo di bovino. Mamma mia, non vedo l'ora. È una gioia, guarda. Oddio, sono arrivati. Mamma mia, che bontà. Siamo arrivati in hotel, vero Debbie? Sì, mi sa che ci siamo anche scottati. Sì. Noi, ci hanno già offerto tutto. Il nostro bel caricetto. Adesso andremo nel nostro stanzetto. Tutto da me. Più che doveroso, è l'home tour della stanza, oserei dire. Questo è il bagno. Guardate che spettacolo. Una Debbie sermatica. Bellissimo. Adesso i Debbie li portiamo in piscina. Vedrete quanto è bella. Guardate che meraviglia. Stiamo per iniziare a mangiare? Ho dimenticato gli enzimi. Siamo cagati. Cioè, è più... Anzi, lei è cagata. Era una brutta battuta. Ragazzi, iniziamo con un'ottima crema di zucca. Come si presentano questi ravioli? Belli. Sono bellissime. Bellissime. San merino? San merino. Beh, comunque deve essere proprio buono. Per me è un bel... Una bella polentina, gorgonzola e erbette. Per Debbie, guarda qua che... Guarda qua che manzo. Non ero io il manzo, era quello. Che bello. Ragazzi, questa giornata è finita. Noi stiamo parlando a dormire perché siamo distrutti. È stata un giornata veramente lunga. E niente. Domani forse lo sarà ancora di più. E... Niente. Noi stiamo a dormire. Ci vediamo domani mattina con una nuova giornata. Ci siamo appena svegliati. Adesso io e lei vengo a fare colazione. Che voce. Arrivati per una nuova escursione. Per niente carichi perché distrutti. Siamo arrivati. Adesso tappetta bagno e partiamo per il nuovo diretto. Vediamo come andrà. Un esemplare di Debbie che fa finta di fare le foto per riposarsi. È vero. Perché non so cosa la tende, non so se si vede a questo livello. Ma andrà. Certo. Vuoi mirare dopo il panorama? Vengo. Non è. Ci stiamo per adentrare nel bosco. Come le mulche hanno più fatti più fiasi di te? Mi fanno camminare qui. Stiamo. questa gente dispersa questo ragazzi era visto che già godiamo il momento non siamo ancora in cima veramente impegnativo veramente impegnativo però stesata questa è però questa salita per arrivare sentire quindi non siamo ancora in cima ma noi siamo partiti esattamente dalla sotto se vi faccio il mega zoom dalla sotto quindi abbiamo fatto di strada noi siamo quasi arrivati siamo quasi in cima qui c'è qualcosa non so cosa ecco queste ragazzi c'è una parte delle dolomiti meraviglioso meraviglioso buongiorno ragazzi guardate che vista assurda nascosto erano minuti che c'era la neve non si vedeva niente quest'anno guardate che roba la torta di carote io e Debbie stiamo dicendo cosa mangiare siamo arrivati in mag e niente adesso scegliamo abbiamo preso di nuovo lo spezzi e anche e Debbie succo di mila tutto il video delle guappe del tegamino con specchi e patate così cebi buono ragazzi siamo riusciti a scendere su sani e salvi adesso vi faccio vedere di nuovo il paesaggio che si è un po' annugurito quindi comunque è molto affascinante anche così guarda che bello io? beh te ovvio ragazzi stiamo appena svegliatevi vi abbiamo risp... mamma mia... vi abbiamo risp... mamma mia... però adesso vi faccio vedere il panorama adesso andiamo a fare colazione e poi partiamo per una mini escursione in una cantina siamo noi in distilleria e questa è la strada bellissima assaggieremo dei gin particolari della zona con delle erbe aromatiche sarà veramente una bella esperienza è un po' di più Beggiorini questi, eh? Beh, si è conclusa anche questa esperienza. Attenzione che cadiamo. Bellissima. Spiantiamola fatta. Esatto, abbiamo assaggiato tantissimi distillati. Sì, ubriachi proprio. Praticamente. Taki gin, abbiamo assaggiato vermut, abbiamo assaggiato grappe. Un po' di tutto. Veramente. Gin, ma proprio vermut. A livelli. Quindi veramente contentissimi di aver fatto questa esperienza. Un po' più vecchia. Forse. Arrivati. Un po' più vecchia. Forse. Faccio, senti. direttore a noi e sono tutti in playa. Bene ragazzi, questo nostro soggiorno è finito, purtroppo. All'anno prossimo e niente dai, speriamo di aver tenuto compagnia e niente dai, lasciate tanti per mi piace, adesso noi partiamo, vi lasciamo qualche piccola clip e noi mentre torniamo a casa e niente, stateci bene, tanti per mi piace, condividete, iscrivetevi. Ciao a tutti!